buongiorno eccoci qua allora cerchiamo di rompere un po il silenzio di queste settimane del coronavirus con questa video lezione che ho pensato una video lezione su tintoretto e veronese che ho pensato principalmente per la quarta b con la quale sono un po più indietro col programma e con la quale appunto non abbiamo ancora affrontato questi temi avendo appena finito di parlare di palladio in verità la lezione può essere utile anche per la quarta bsa che è lunedì a verifica e con la quale ho parlato di questi due artisti ma in particolare la parte di veronese credo di averla fatta in maniera molto veloce quindi può essere utile appunto come ripasso questo questo video e io preparo questo video lo carico su youtube e poi magari se avete qualche qualche interrogativo qualcosa che non è stato capito qualche osservazione da fare lo potete fare tranquillamente nei commenti su youtube oppure insomma via mail e la mia mail la conoscete potete fare anche in quel modo ecco e casomai se vedo che ci sono diciamo dei dubbi necessità di chiarimenti potrei anche fare un video di risposta per appunto chiarire un po queste questioni prima della verifica quindi come vedete siamo a venezia e andiamo a vedere questi due importantissimi artisti del della seconda metà del cinquecento tintoretto e veronese i due grandi protagonisti di questo periodo quindi andiamo innanzitutto a parlare di di tintoretto ecco qui iniziamo proprio da 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 tintoretto che anche il più anziano dei due iniziamo con questa immagine della della sua casa che ancora oggi voi quella che tradizionalmente è considerata la sua casa che ancora oggi voi potete andare a vedere a venezia si trova nella sestiera di canna reggio vicino al campo dei mori ecco tintoretto suo vero nome è jacopo robusti nasce nel 1518 ed è figlio di un tintore quindi di un artigiano che appunto lavorava nel dipingere i tessuti il padre pare fosse originario della toscana comunque jacopo nasce a venezia e appunto adotta poi il nome di tintoretto proprio fiero delle proprie origini popolari e del lavoro del padre tintoretto sarà quindi il suo soprannome può essere anche soprannome anche dei figli che porteranno avanti la bottega nelle generazioni successiva ecco tintoretto ha una una particolarità è l'unico grande pittore veneziano del 500 a essere nato e ad aver sempre vissuto a venezia ecco quindi possiamo anche andare avanti e dire appunto queste cose questo suo autoritratto tra l'altro è nato a venezia non se ne è mai allontanato tutti gli altri grandi pittori veneti dell'epoca spesso sono nati altrove pensate a tiziano che è nato in cadore o appunto a veronese che come vedremo nasce a verona e niente e tutta la sua opera sta a venezia lui lavora sempre da venezia a quanto pare non se ne è mai allontanato la sua biografia è incerta perché non ci sono molti molti documenti ma pare che non si sia mai allontanato da venezia quindi lavora a venezia per committenze veneziane le chiese le grandi famiglie patrizie le scuole grandi e piccole poi vedremo cosa sono le scuole veneziane e infine anche ovviamente per la repubblica allora la sua formazione ecco la sua formazione non abbiamo molto in molte notizie pare che sia stata una formazione prevalentemente da autodidatta ecco c'è un po questa leggenda secondo la quale giovanissimo sarebbe entrato nella bottega di tiziano e tiziano l'avrebbe scacciato in quanto aveva già compreso pur essendo jacopo giovanissimo 13 14 anni tiziano aveva già intravisto il genio e temeva di esserne messo in ombra strata ovviamente di una leggenda non abbiamo effettivamente dei documenti che ci attestino che lui ha veramente lavorato con tiziano ecco quindi nonostante sia di origini umili non abbia appunto maestri famosi importanti non abbia entrature politiche diciamo titoretto raggiunge lo stesso un successo straordinario possiamo definirlo oggi lo definiremo un self made man cioè un uomo che si è fatto da solo che ha raggiunto il successo credendo in se stesso e soprattutto offrendo qualcosa di diverso rispetto a quello che gli altri offrivano e cos'è che di diverso offriva tinto retto ve lo vedremo adesso nel corso della lezione è un artista estremamente produttivo e veloce nel produrre nel creare opere anche molto grandi e la sua capacità di stupire di creare una pittura di grande effetto una pittura che che colpisce proprio l'impressione il sentimento una pittura che comunica una grande drammaticità una grande inventiva di soluzioni nuove soluzioni figurative soluzioni spaziali soluzioni che hanno a che vedere con con la luce e con tante altre cose potremmo come vedremo considerare tintoretto quasi l'inventore degli effetti speciali perché la sua una pittura piena di effetti speciali che prima non si erano mai visti ecco e tutte queste cose insieme fanno sì che tintoretto abbia un grande successo successo travolgente che un po alla volta appunto riesca anche ottenere commissioni importanti e a diventare il più importante pittore di venezia approfittando anche dell'assenza inizialmente anche dell'assenza di che spesso appunto ci allontanava da venezia per seguire i suoi committenti più più potenti che sono che furono appunto l'imperatore o i papi ecco questa frase di di vasari entrata nella storia è il più grande il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura cosa cosa significa questa frase di vasari è quel terribile soprattutto è un terribile che non va inteso in senso esclusivamente negativo attenzione perché terribile all'epoca era una parola che significa significava incredibile stupefacente magnifico e quindi ciò che colpisce vasari è appunto la mente l'inventiva di 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 tintoretto la sua grande capacità di 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 produrre sempre qualche novità di stupire e di arrivare sempre prima degli altri anche nella consegna delle opere come vedremo però attenzione ricordiamoci anche che vasari è un toscano e fiorentino effettivamente una una critica verso tintoretto lui ce l'ha perché tintoretto diciamo è molto diverso rispetto a quello che è l'ideale dell'artista che ha vasari in particolare il vasari aspetta che trovo la citazione ecco praticamente vasari accusa tintoretto di 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 non dedicarsi abbastanza al disegno ricordiamoci che per i toscani il cuore dell'attività dell'artista della ricerca dell'artista è il disegno non è la pittura è il disegno cioè quella quella fase preparatoria in cui sul foglio con la matita con con la penna si disegna quindi si studiano le forme si studiano le proporzioni si studia il chiaro scuro ecco passate ai disegni di leonardo da vinci per dire no ecco lui dice che no avrebbe dovuto dedicarsi meno appunto alla questa sua velocità nel dipingere nel nel produrre produrre un po di meno dedicare invece più tempo allo studio del disegno perché poi anche lo stile pittorico di di tintoretto come vedete uno stile veloce cioè fatto di pennellate grosse veloci non è una pittura di dettaglio assolutamente è una pittura proprio che 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 in cui si vede proprio l'energia del segno e la velocità della realizzazione che tende usare il minimo possibile di segni e che appunto poi confidando nel fatto che comunque l'occhio umano è in grado di poi aggiungere quello che manca o meglio il cervello umano è in grado di ricostruire l'immagine questo è ciò che sappiamo noi oggi che insomma abbiamo studiato queste cose le neuroscienze ci dicono appunto che che appunto la mente umana è in grado di di completare che non è necessario appunto soffermarsi eccessivamente nel dettaglio uno stile quasi quindi che 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 anticipa ad esempio l'impressionismo che vedremo l'anno prossimo l'impressionismo utilizza esattamente questa 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 strategia ecco di di utilizzare poche pennellate veloci lasciare che poi sia 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 la mente a completare l'immagine quindi iniziamo a vedere così la prima opera importante di tintoretto il miracolo dello schiavo una grande tela che è tintoretto realizza per la scuola grande di san marco allora prima di entrare nell'opera diciamo due parole innanzitutto cosa sono le scuole grandi vedremo poi che appunto tintoretto lavora spesso per queste istituzioni veneziane allora le scuole grandi a venezia erano delle confraternite esistevano le scuole grandi anche le scuole piccole ma quelle che commissionavano le opere più importanti erano le scuole grandi che erano delle confraternite confraternite religiose o perlomeno nascevano come confraternite religiose poi diventavano praticamente delle specie di corporazioni ok quindi riunivano persone che che avevano che facevano lo stesso lavoro che che sono mercanti artigiani eccetera un po come le corporazioni fiorentine e quindi univano un po l'elemento diciamo così della fede con la difesa degli interessi della propria categoria e anche però per svolgere attività benefiche innanzitutto all'interno per per gli associati e poi anche all'esterno per per i poveri per le persone in difficoltà ecco quindi erano un po delle forme di associazionismo laico di volontariato laico erano tra l'altro aperte sia agli uomini che alle donne laico nel senso di composto da laici anche se appunto c'è sempre l'elemento votivo che 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 è molto importante le scuole grandi si votano a un santo tra le più importanti c'è appunto la scuola grande di san marco per la quale titore ha realizzato questo dipinto poi vedremo la scuola grande di san rocco che sarà la committente più importante di tintoretto e poi ce ne sono altra scuola a venezia le potete andare a vedere anzi adesso le andremo anche a vedere e niente appunto queste scuole scuole grandi quelle più importanti realizzano proprio degli edifici hanno dei palazzi in cui si riuniscono che fanno decorare da grandi artisti e questo dipinto è un telero ecco un'altra cosa un'altra parola importante il telero che cos'è il telero il telero a venezia nel cinquecento è una grande tela di dimensioni enormi che va sostanzialmente a sostituire l'affresco ci serve a decorare le stanze le pareti di palazzi di scuole o appunto di anche di chiese per dire perché perché c'è il telero c'è il telero perché l'affresco a venezia non funziona la vita breve si deteriora la città è costruita sull'acqua e i muri dalle fondazioni tendono a far risalire l'acqua della laguna l'acqua salmastra per capillarità e poi l'umidità esce dal muro attraverso la superficie deposita i sali sulla superficie del muro e quindi l'affresco che già di per sé è un po' una forma di pittura abbastanza quello che tende un po' di più a deteriorarsi a venezia veramente aveva vita breve e invece il telero è una tela che viene appunto apposta al muro montata su dei montanti di legno ed è staccata dal muro a questi pochi centimetri che la staccano e lì appunto appunto non soffre non soffre l'umidità e quindi nel 500 venezia i palazzi veneziani gli interni veneziani si vestono ovunque di teleric sono tele appunto molto grandi che però appunto richiedono anche un dei tempi di lavorazione dei sistemi di lavorazione modi di produzione molto diversi molto più veloci ecco non può essere una pittura di dettaglio come quella magari del piccolo quadro della piccola tavola privata ecco quindi e e tintoretto diventa in breve il campione del telero praticamente diventa colui che che crea le soluzioni più più intelligenti più ottimali che poi verranno seguite anche dagli altri artisti quelli delle generazioni successive perché poi i teleri noi li troviamo anche per tutto il 600-700 un'ultima cosa sui teleri il telero viene realizzato nello studio dell'artista viene poi arrotolato portato sulle barche portato fino sotto le finestre della chiesa del luogo dove dove doveva doveva messo doveva installato poi viene sollevato con delle corde fatto entrare da una finestra poi sotto la sulla parete noi vedremo dei teleri molto grandi anzi a venezia ci sono i dipinti su tela più grandi del mondo per questa ragione ok dove troviamo i teleri più grandi veneziani li troviamo ad esempio palazzo ducale palazzo ducale è interamente ricoperto di tele all'interno la scuola grande di san rocco che è il capolavoro di tintoretto come vedremo e altri luoghi chiese chiese di san zaccaria ad esempio allora parliamo di questo dipinto allora il miracolo dello schiavo è un dipinto delle dimensioni piuttosto ragguardevoli appunto 4,15 x 5,41 è un telero insomma molto grande che si trovava nella scuola grande di san marco racconta un miracolo legato proprio a san marco la storia è quella di uno schiavo uno schiavo una storia ambientata all'epoca ancora della roma pagana uno schiavo che vuole voleva pregare san marco uno schiavo cristiano quindi viene scoperto dal proprio padrone mentre prega viene processato e condannato al martirio se non che nel momento in cui deve essere ucciso arriva il santo e il santo compie il miracolo rende sostanzialmente inattaccabile il corpo dello schiavo e quindi qui vediamo proprio il momento in cui i carnefici cercano in ogni modo di ucciderlo e gli strumenti di tortura si rompono ecco allora qui si vede già tutto tutto quello che è la grande novità di Tintoretto innanzitutto una scena molto caotica dove ci sono molte figure dove c'è molto movimento dove c'è una certa confusione è una scena che è quasi come se avvenisse sul palco di un teatro ecco con una scenografia che è una scenografia che è un'architettura classica una tipica architettura rinascimentale manierista una gran quantità di figure che compiono dei movimenti anche molto complessi qui si vede molto bene anche la lezione di Michelangelo che è arrivata nel nord Italia è arrivata in laguna grazie agli artisti manieristi e che è stata pienamente recepita da Tintoretto vi invito semplicemente a guardare il corpo dello schiavo con la sua nudità i suoi muscoli o guardare ad esempio questo torso qui sulla destra ecco adesso non so esattamente se voi vedete il cursore penso di sì comunque ecco qui sulla destra si vede questo corpo anche questo qui in alto a sinistra insomma c'è è indubbiamente Tintoretto un artista che possiamo inserire nel filone del manierismo per il modo in cui rielabora i grandi di inizio 500 e poi c'è appunto l'invenzione dell'effetto speciale l'effetto speciale qui è San Marco è San Marco che lì in alto al centro che arriva volando lo vediamo così in prospettiva scorciato a testa in giù sembra quasi è come se fosse arrivato alle nostre spalle è un po' come un supereroe e noi lo vediamo dai piedi noi lo vediamo all'incontrario al contrario invece dello schiavo che gli fa da contrapunto da simmetrico che invece è esposto è disposto praticamente all'opposto ci mostra la testa ecco e questa apparizione di questo supereroe volante è la grande invenzione una cosa che non si era non si era mai vista e poi c'è anche l'elemento della luce ecco la luce qui che diventa una luce appunto particolare sovranaturale fortissima che crea delle ombre nette crea dei chiaroscuri molto netti illuminando fortissimamente alcune parti innanzitutto il corpo dello schiavo che è il protagonista e poi anche i corpi delle persone che assistono creando appunto zone di ombra molto profonda zone di luce molto accesa molto intense ecco tutto è molto plateale anche le gestualità se voi guardate i gesti che compiono i carnefici i gesti del carnefice che porge al padrone gli strumenti rotti il padrone stesso che esprime questo questo suo trasecolare questa sua incredulità ecco e ecco c'è già tutto c'è già tutto e questo è un dipinto che fa una grande impressione e si apre insomma la via di Tintoretto verso il successo si accendono i riflettori su questo pittore molto promettente oggi questo dipinto lo trovate alle gallerie dell'accademia come molti degli altri che vedremo oggi ok andiamo avanti e ecco il miracolo dello schiavo non c'è nel vostro libro c'è invece questo c'è il ritrovamento del corpo di San Marco sempre un dipinto fatto per la scuola grande e ecco cosa vediamo in questo dipinto in questo dipinto vediamo una prospettiva uno spazio prospettico esagerato vedete come Tintoretto crea questa prospettiva centrale ma decentrata nel senso che il punto di fuga sta tutto a sinistra accentuata da questa architettura maestosa ripetitiva è la tomba praticamente il cimitero in cui viene ritrovato il corpo di San Marco e c'è appunto questa rappresentazione del fatto soprannaturale che vuole essere rappresentato come se stesse avvenendo davvero davanti ai nostri occhi ci sono anche qui un sacco di personaggi ci sono varie cose che succedono nello stesso momento e vediamo un po' come Tintoretto gestisce questa complessità allora la figura il protagonista San Marco è la figura in piedi qui a sinistra lo riconosciamo perché ha il Vangelo sotto il braccio ai piedi c'è il suo corpo il vero corpo di San Marco nell'ambiente sta avvenendo la ricerca del corpo vedete qui in fondo con questo controluce fortissimo ci sono questi due personaggi che hanno aperto un sarcofago stanno cercando all'interno il corpo ma altri lo stanno calando da un'altra tomba pensile qui sopra ma Tintoretto con il braccio li ferma e gli avvisa no non è quello il corpo il corpo vero è questo fermatevi lo avete già trovato ecco e quindi qui trovate invece il nobile veneziano il mercante che appunto si è occupato di trafugare il corpo e qui avviene un'altra scena avviene la scena di un indemoniato questo qui che viene guarito da San Marco però Tintoretto ci mostra proprio il momento della massima follia dell'indemoniato che appunto si scaglia addosso a questa donna afferrandola per le gambe mentre un altro uomo vedete che cerca di trattenerlo con lo sguardo dimostrando anche il massimo sforzo gira la testa verso il santo chiedendo il suo intervento ecco guardate come i corpi sono definiti a livello muscolare pensate appunto sempre a Michelangelo guardate la prospettiva che non è solo quella dell'architettura ma è anche quella dei corpi del corpo del santo per terra e del corpo dell'indemoniato tutto per creare appunto un effetto drammatico teatrale che è completamente inedito perché fino ad adesso abbiamo visto come comunque il senso comunque dell'ordine olimpico del del gusto rinascimentale si era mantenuto abbastanza intatto nella prima metà del cinquecento ma qui siamo già siamo già oltre il sentimento sta già cambiando e oltre ovviamente ripeto anche gli effetti di luce guardate il contrasto che si fa sempre più sempre più più evidente più forte tra le zone in luce chiarissime e le zone buie molto oscure ecco si va diciamo così anticipando la tendenza che sarà della pittura barocca da Caravaggio in poi appunto di accentuare questi effetti di luce questo effetto che viene chiamato a volte luminismo che consiste proprio nell'illuminare fortemente alcune parti e lasciare completamente in ombra le altre ecco Tintoretto è un po' l'anticipatore ecco poi c'è la crocifissione ecco nella crocifissione ecco questo è un dipinto che invece troviamo nella scuola grande di San Rocco allora due parole su questo luogo la scuola grande di San Rocco viene detta la cappella Sistina di Tintoretto perché effettivamente è interamente dipinta da lui e dentro troviamo i suoi capolavori è proprio il suo lascito più grande il tempio della sua pittura andiamo anche a vederla perché insomma allora un attimo solo vorrei un attimo tornare a Venezia in volo su Venezia ecco vedete già qui si vedono due scuole grandi quella di San Giovanni e quella di San Rocco la scuola grande di San Rocco si trova dietro la Basilica dei Frari ecco quindi che possiamo anche portarci qui nella scuola e andrei a vedere le visualizzazioni a 360 gradi ecco qui vedete le sale queste sale grandi monumentali di questa scuola grande ma ce ne sono ripeto anche altre interamente ricoperte di teleri anche il soffitto come vedete ok questa è la sale in cui si riunivano i membri della della confraternita ecco fuori vedete l'edificio uno straordinario edificio rinascimentale stile rinascimentale veneziano questa è la scuola grande e questa è la chiesa invece di San Rocco il campo di San Rocco si trova dietro la Basilica dei Frari di cui questa è l'abside e qui in mezzo sapete benissimo cosa c'è qui c'è un'altra opera importante che abbiamo studiato ecco oggi nelle scuole grandi si svolgono eventi culturali spesso nella scuola grande di San Rocco ad esempio si fa concerti di musica barocca musica veneziana eccetera ecco allora torniamo un attimo alla nostra lezione allora F5 se non sbaglio no ok mi hai riportato all'inizio allora è forte come riesce a Tintoretto a prendere questa commissione della scuola grande di San Marco no di San Marco di San Rocco avviene così viene fatto un concorso per un dipinto che doveva essere messo sul soffitto di questa scuola grande i pittori arrivano tutti con il bozzetto Tintoretto arriva con l'opera già fatta già finita pronta da montare praticamente annulla il concorso e viene scelto ovviamente perché lui è l'opera già pronta quindi capite proprio la sua velocità nel realizzare queste opere opere grandi opere che necessitano appunto di una pittura svelta una grande bottega che deve essere ben organizzata e lui è così è un lavoratore organizzato instancabile e affidabile e quindi questo è anche questo il segreto del suo successo in quel caso ha investito molto ecco diciamo nel produrre un'opera già pronta quindi anticipando senza aspettare di ricevere l'incarico e di ricevere i soldi ma ha scommesso bene perché alla fine poi lui sarà il pittore della scuola grande di San Rocco questo è il dipinto più celebre uno dei più celebri di Tintoretto ed è uno dei più famosi all'interno della scuola grande di San Rocco proviamo ad analizzare quindi quest'opera anzi osserviamo la prima è un'opera complessa che pullula di tantissimi personaggi è una crucifissione molto affollata ecco come fa Tintoretto a mettere ordine all'interno di questo caos questa è la domanda che noi dobbiamo farci quando ci troviamo di fronte a un dipinto in generale non solo riguardo a Tintoretto così affollato così caotico ecco come fa? beh innanzitutto guardiamo la composizione abbiamo la croce che è al centro quindi crea una astialità una centralità con il gruppo poi dei dolenti che forma un gruppo compatto ai suoi piedi e poi tutto l'intorno così caotico così popolato in verità all'interno noi troviamo degli elementi che in qualche modo portano un po' di ordine guidano il nostro sguardo innanzitutto se voi notate ci sono una serie di elementi ad esempio questa scala che crea innanzitutto una prospettiva quindi un senso di profondità però allo stesso tempo mi porta verso sempre verso la croce verso Gesù la croce del ladrone che sta per essere alzata che appunto crea anche lui questa direttrice quest'altro personaggio che lancia appunto questo bastone questa lancia verso Gesù ok sono tutti elementi che portano comunque verso la croce quindi indirizzano lo sguardo allo stesso tempo possiamo notare degli allineamenti magari meno evidenti tra questi cavalli questi personaggi ecco anche qui queste schiene appunto rivolte verso Gesù anche da questa parte quindi a creare una specie di grande triangolo allo stesso tempo c'è anche la luce che va a rivelare gli spazi retrostanti la croce in particolare questo squarcio questo cono di luce che entra da sinistra e un altro un po' più caldo con una luce un po' più più calda più gialla che invece entra da da destra e che investe la seconda croce dove sta l'altro ladrone ecco comunque vedete gli effetti di luce che già conoscete con i corpi semi-illuminati a mettere in evidenza i panneggi le muscolature i movimenti i gesti i dettagli abbiamo una descrizione di questa umanità molto varia fatta di nobili di cavalieri di soldati ma anche di povera gente rappresentata poi con grande realismo anche nel dettaglio della loro povertà della loro umiltà ecco è una scena quindi cupa drammatica appunto per questi effetti di luce anche per questo cielo che sembra quasi annunciare tempesta che vediamo sullo sfondo ecco questo tipo di illuminazione si 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 adatta molto a quella delle sale interne della scuola grande di San Rocco che appunto come avete visto sono delle sale molto in penombra pare che Tintoretto studiasse gli effetti di luce creando dei piccoli modellini con dei corpi fatti di cera di modellini degli spazi che va a rappresentare che poi lo illuminava in un certo modo appunto per osservarne gli effetti anche questo è un anticipare ciò che verrà fatto comunemente dagli artisti del barocco che proprio creeranno delle vere e proprie piccole scene teatrali dei piccoli teatri di posa all'interno dei propri studi da cui poi riprendere le figure copiare le figure ok ecco un'altra opera molto importante quindi Tintoretto già ormai famoso è Il Paradiso che voi trovate nella sala del maggior consiglio a Palazzo Ducale ecco ormai Tintoretto è l'unico il più grande pittore veneziano assieme a Veronese perché Tiziano è morto è morto nel 76 e l'anno successivo nel 77 avviene un evento un evento drammatico triste traumatico il Palazzo Ducale va a fuoco brucia brucia quasi tutto e quindi deve essere ricostruito e deve essere soprattutto ridecorato quindi l'aspetto che voi vedete adesso di Palazzo Ducale con tutti quei teleri appunto deriva appunto dai lavori che sono stati fatti dopo il 1577 viene fatto quindi un concorso nell'anno 1580 per il dipinto più importante quello che sta nella sala del maggior consiglio che è la sala più grande di Palazzo Ducale anzi una delle più grandi sale che noi possiamo trovare in un edificio non contemporaneo un edificio in muratura con solai in legno ed è la sala che doveva contenere tutto il maggior consiglio che poteva contenere fino a più di mille persone e lì c'era un affresco prima c'era un affresco del guariento fatto nel 1300 che però appunto necessita di essere sostituito e qui abbiamo un dipinto veramente di dimensioni ragguardevoli si tratta di uno dei dipinti su tela più grandi mai realizzati viene fatto il concorso Tintoretto lo perde perché il concorso viene vinto da Veronese se non che poi i lavori si protraggono a lungo vengono continuamente rimandati alla fine nel 1588 Veronese muore e quindi e quindi niente subentra Tintoretto che a quel punto lo realizzerà assieme al figlio Domenico e alla bottega ecco è il paradiso quindi la raffigurazione di Gesù e Maria al centro con attorno a tutte le schiere di angeli arcangeli santi e quant'altro non lo approfondiamo è giusto perché vediate ancora una volta la grande capacità di Tintoretto di gestire la complessità le scene affollate creando comunque una pittura di grande impatto terminiamo con l'ultima cena che è l'ultimo dipinto di Tintoretto perché nel 1594 lui muore è un dipinto che lui realizza per il convento di San Giorgio Maggiore quindi conosciamo già perché appunto la chiesa era stata progettata dal palladio ecco qui c'è il tema dell'ultima cena è un tema su cui ha lavorato moltissimo Tintoretto poi vedremo anche anche Veronese ci lavorò tanto ecco però Tintoretto con l'ultima cena ha lavorato molto proprio nel cercare delle soluzioni delle soluzioni nuove diverse rispetto a quella tradizionale del del 400 che è quella del del tavolo diciamo disposto parallelamente a a chi osserva no con gli apostoli tutti da un lato poi con che aveva poi anche ripreso anche Leonardo da Vinci nel cenacolo di Santa Maria delle Grazie a Milano ecco io non ve le faccio vedere però insomma la storia di Tintoretto l'opera di Tintoretto è piena di queste ultime cene in cui lui cerca sempre di trovare una soluzione diversa di disporre il tavolo in un'altra posizione le persone appunto come sono sedute attorno insomma c'è una continua ricerca di soluzioni sempre diverse senza per forza doversi rifare dover rispettare un'iconografia prestabilita dalla tradizione ecco in questo caso lui crea appunto questa questa prospettiva laterale molto forte col punto di fuga che finisce totalmente nella destra del dipinto questa prospettiva così profonda vertiginosa poi ribadita anche dalle travi del soffitto dal pavimento e appunto la figura di Gesù che comunque si trova al centro del dipinto che emana dall'aureola una luce una luce sfolgorante ecco le fonti di luce qui sono poche sono due una è proprio il volto di Gesù che crea questa luce bianca fortissima che investe il tavolo che crea queste ombre così forti sul tavolo sul pavimento sulle figure guardate ad esempio questa serva ad esempio con queste spalle queste braccia illuminate e questo volto invece totalmente in ombra e invece questo bracere questo questo lampadario appunto che brucia e che illumina invece il l'aria e che sembra quasi rivelare la presenza di questi angeli che arrivano e che sono fatti sono fatti di luce sono fatti di riflessi sembrano fatti di vetro soffiato ecco anche questa è una è una invenzione nuova bella di Tintoretto perché proprio compaiono all'interno di uno spazio di uno spazio buio rivelati appunto dalla luce che è una luce ovviamente simbolica sovrannaturale ecco quindi anche qui tutto le gestualità sia quelle degli apostoli sia quelle di tutti questi servitori di questi comprimari questi personaggi aggiunti vi faccio notare ad esempio gli animali che che in quest'epoca compaiono li vediamo poi anche in veronese e che compaiono in queste scene c'è il cane accucciato sotto sotto il tavolo sembra quasi spaventato guardate la bellezza di questo gatto che si arrampica sulla mestella ecco e queste nature morte poi queste queste composizioni di oggetti che si trovano appunto sul 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 tavolo sono tipiche dell'epoca non solo di Tintoretto ecco però Tintoretto appunto ci aggiunge questo elemento della luce che investe tutto e che crea un effetto drammatico importante ecco niente quindi questo era Tintoretto e adesso io direi passiamo a Paolo Veronese eccoci qua questo è il Veronese appunto Paolo Cagliari è il suo nome Veronese perché è nato a Verona anche se poi come tutti si trasferisce a Venezia si trasferisce a Venezia il suo prendestato a Venezia e poi appunto lavorerà gran parte della sua vita a Venezia nasce nel 1528 quindi un po' più giovane dieci anni più giovane di Tintoretto in verità morirà prima Veronese si contenderà con Tintoretto le committenze più prestigiose più importanti nella Venezia di fine 500 ecco però come vedremo Veronese ha delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle di Tintoretto magari poi alla fine quando avremo finito di parlare di lui faremo un po' il punto della situazione e vedremo proprio le differenze tra i due allora Veronese è anche lui è un artista che è diventato celebre per per la luce per la luminosità dei suoi dipinti ecco attenzione però cosa significa luminosità non è semplicemente fare un grande utilizzo del bianco o di colori chiari per quanto la pittura di Veronese sia fatta anche di bianco e di colori chiari la sua luminosità non nasce da questo in verità la luminosità di Veronese nasce dall'utilizzo che lui fa dei colori ecco i colori come utilizza i colori Veronese li utilizza in una maniera un po' diversa rispetto a a quello che noi ci aspetteremo da un pittore veneto la pittura veneta è da sempre legata alla pittura tonale quindi variazioni di tonalità sul colore ecco in verità Veronese non crede in questa modulazione graduale del colore tende invece a mettere in contrasto i colori a farli incontrare in maniera che entrino in contrasto e si esaltino l'uno con l'altro e capisce che per ottenere questo si devono utilizzare i colori complementari ovvero bisogna accostare colori che tra di loro sono complementari cosa sono i colori complementari ne abbiamo già parlato ma riassumo in breve i colori più complementari sono quei colori che sono l'uno all'opposto dell'altro ad esempio il rosso rosso magenta e il verde ecco che qui ad esempio in questo dipinto voi vedete che lui mette vicino una donna vestita di un colore rosso rosso porpora e appunto un uomo vestito di verde oppure abbiamo l'azzurro con l'arancio il blu e l'arancio anche quelli sono colori complementari sono colori che sono l'uno opposto dell'altro il giallo e il viola ecco un'altra famosa coppia di complementari i complementari vanno sempre a coppia ogni colore ha il suo opposto e utilizzandoli poi anche nel pieno della loro tonalità della loro carica tonale non sono colori pastellati terrosi ma sono colori proprio molto carichi una volta messi uno vicino all'altro questi colori entrano in contrasto fanno appugni ma allo stesso tempo si esaltano si esaltano se tu vuoi esaltare il rosso devi metterlo vicino al verde allora quel rosso sembrerà ancora più rosso se lo metti vicino al verde il giallo se vuoi sembri ancora più giallo di quello che è lo metti vicino al viola e così via e questo crea anche un ulteriore effetto cioè l'effetto che è il nostro occhio questi colori proprio accendono di luminosità il dipinto cioè lo vivacizzano lo rendono più vivido e poi vedremo vedremo poi anche nei dipinti più più affollati più complessi di Veronese come veramente ci sia questa luce molto forte questa luce molto vivace che è proprio quella tipica di Veronese ecco Veronese è un pittore che incontra più il gusto diciamo così colto raffinato classico mondano dell'aristocrazia veneta e lo vediamo ad esempio degli affreschi di Villa Barbaro a Maser la villa progettata e costruita da Palladio all'interno le sale in particolare il salone qui vediamo sono interamente affrescati da Paolo e qui vediamo che Veronese dipinge inattito dipinge delle architetture perché vedete la cornice alta è vera è reale è architettonica ma queste colonne queste architetture sono interamente dipinte e poi dipinge dei paesaggi dei paesaggi bucolici dei paesaggi che richiamano l'immaginario del arcadico olimpico della poesia latina con queste campagne queste figure di pastori queste rovine rovine classiche che proprio rimandano a quell'immaginario di quella appunto di quella di quella elite colta patrizia veneziana che studiava studiava i classici e poi però raffigura appunto anche la mondanità ossia la quotidianità della vita di mondo dei patrizi veneziani e quindi vediamo ad esempio raffigurate delle delle figure aspettate adesso c'era ancora questa che non mi ricordavo in cui appunto vediamo la la porta la porta finestra del salone che guarda verso il paesaggio e poi vediamo appunto anche altre altri paesaggi dipinti invece da Paolo è un cane ad esempio ecco quindi appunto gli elementi della quotidianità i personaggi che si possono trovare proprio nella villa nella vita di villa nella quotidianità della villa veneta e quindi una porta finta finta che si apre e compare un paggio servitore oppure la famosa bambina che si vedeva anche nella foto prima bellissima che anche lei fa capolino da una porta con le guance con le fossette bellissima e in alto sempre nel salone troviamo invece la padrona la padrona di casa la moglie del signor Barbaro Giustiniana Giustiniani assieme a una serva appare splendida bellissima su questa balconata vista dal basso quindi scorciata dalla prospettiva anche queste monumentali colonne tortili sono scorciate dalla prospettiva con appunto la serva il cagnolino il pappagallo siamo praticamente andando a visitare questa villa voi entrate nella quotidianità è come fare un balzo indietro nel tempo perché incontrate proprio i protagonisti i paroni della villa e poi il resto della villa è riempito di figure allegoriche di raffigurazioni mitologiche e quant'altro ecco tutte tutte da interpretare insomma come al solito non le andiamo a vedere comunque e poi veronese diventa famoso soprattutto per le sue cene ecco questa è una lunga una lunga serie di cene ultime cene oppure questa è un'altra sempre un'altra cena evangelica la cena delle nozze di cana ecco lui diventa proprio celebre per queste sue raffigurazioni in cui vedete ambienta l'ultima cena in un in un fastoso contesto architettonico classico pieno di edifici di colonne di templi con questi cieli azzurri dietro che portano lo sguardo in lontananza quindi anche qui una specie di città ideale no? però riempiendole di figure di figure che 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 non ci sono ovviamente nel Vangelo che sono appunto come degli attori che salgono su questo palcoscenico e che hanno possono avere una relazione con la cena possono anche non averla come vedremo ma che sono una raffigurazione della 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 società mondana veneziana dell'epoca queste cene sono di fatto un pretesto per rappresentare la mondanità veneziana quel patriziato e il piacere appunto del del divertimento del del convivio dell'incontro del lusso dello sfarzo eccetera eccetera Venezia è in crisi sta attraversando una lunga crisi economica sta perdendo il suo potere di fatto è entrata già nel declino però punta tutto ancora una volta sulla cultura sulla raffinatezza sul sull'immagine sul dare di sé un'immagine comunque viva sana e di grande benessere ecco in mezzo insomma si vede anche Gesù si vedono anche tutti i personaggi c'è c'è tutta l'iconografia poi la ritroviamo però tutto si perde all'interno del di questa scena molto affollata vi faccio vedere vi faccio notare ancora una volta i colori ecco guardate i vestiti guardate i colori il rosso vicino al verde il blu vicino all'arancio eccetera c'è appunto questo piacere nel mettere insieme i complementari usare colori molto carichi e quindi il dipinto diventa una festa per gli occhi ecco per citare ecco questa espressione che verrà inventata da da un artista francese che vedremo l'anno prossimo Della Croix un artista dell'ottocento che appunto anche lui userà molti colori si ispirerà moltissimo agli artisti veneti e dirà proprio che il quadro deve essere una festa una festa pre di occhi ecco Della Croix probabilmente aveva visto questo dipinto di di veronese a Parigi perché appunto il dipinto si trova lì è stato uno dei dei tanti dipinti che è stato portato via durante le guerre napoleoniche e che non ha fatto ritorno anche in virtù delle dimensioni immense perché qui stiamo parlando di un dipinto veramente grande il famoso dipinto che si trova nella sala nella sala della Gioconda ecco che nessuno guarda perché c'è la Gioconda come probabilmente vi ho già raccontato ecco 6 metri 69 per 9,90 è immenso è grande ecco e si trova ancora lì sono le nozze di Cana quindi è una grande festa e poi attenzione però perché appunto va bene rappresentare la la società veneziana questo gusto per il mondano veronese è adoratissimo a Venezia per questo gli vengono chieste continuamente in queste cene però a un certo punto nascono anche dei problemi nascono i problemi con con l'inquisizione con l'inquisizione perché ormai è passato il concilio di Trento e la chiesa vuole avere il controllo insomma di come viene vengono rappresentate le storie sacre ecco e quindi si nasce cresce un sospetto su veronese cioè che questo suo riempire di 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 figure che non c'entrano niente di 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 altre cose questo rendere così mondani queste 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 ultime cene che diventano praticamente delle delle feste dei banchetti delle sagre ecco che non ci sia sotto diciamo così l'insidia di quel grande male come veniva percepito all'epoca del dell'ideologia protestante ecco e quindi a causa di questo dipinto la la cena in casa di Levi che trovate alle gallerie dell'accademia ma che inizialmente aveva un altro titolo si chiama era un'ultima cena a causa di questo dipinto veronese si è preso un po' uno spavento nel senso che è stato chiamato a rapporto è stato interrogato dalla santa inquisizione a Venezia ecco perché appunto per le ragioni che ho detto prima è stato chiamato a rendere conto di questo suo modo di operare e gli atti di questo processo ci sono il testo c'è lo trovate tranquillamente in internet anche se adesso lo leggeremo insieme ed è interessante andare a vedere le domande che vengono poste dall'inquisitore e le risposte appunto di Paolo non si trattò di un processo fu semplicemente un interrogatorio veronese non è stato incarcerato non è stato maltrattato però tutto possiamo immaginare si è svolto comunque con il sottointeso che se veronese non avesse dato delle risposte convincenti sarebbe invece partito un vero e proprio iter processuale per eresia ecco quindi io me l'immagino anzi è evidente poi dalle parole di veronese il suo spavento il suo timore ecco alla fine cosa succede niente a veronese non viene chiesto di né di distruggere l'opera né di cambiarla semplicemente viene cambiato il titolo dell'opera non è più l'ultima cena ma diventa la cena in casa di Levi ovvero un episodio secondario del Vangelo perché allora lì sì su un episodio secondario si può anche pensare di lavorare un po' più di fantasia non sull'ultima cena l'ultima cena va trattata seriamente ecco quindi andiamo a vedere un po' cosa c'è nel dipinto in verità lo si legge anche dagli incartamenti dell'interrogatorio ecco giusto due parole sul contesto vedete chiaramente ancora una volta l'architettura questa architettura che ci ricorda Palladio ci ricorda la basilica di Vicenza con queste grandi serliane inscritte all'interno di queste semicolonne corinzie quindi di questo sistema trabeato una terrazza delle scale e uno sfondo fatto ancora una volta di magnifici edifici rinascimentali e poi appunto tutti questi personaggi e allora leggiamo insieme gli atti del processo e i dictum e i dictum è l'interrogatore come si dice l'interrogatore l'inquisitore l'inquisitore è colui che conduce l'interrogatorio gli chiede dite quanti ministri i personaggi sono i ministri e gli effetti che ciascondi loro fanno quello che stanno facendo nella scena gli sta chiedendo a Veronese di descrivere il dipinto e Veronese dice è il patrone dell'albergo Simon oltre a questo ho fatto sotto questa figura uno scalco lo scalco è il maggiordomo praticamente uno scalco il qual ho finto che sia venuto per suo diporto a vedere come vanno le cose della tola che sono molte figure le quali per essere molto che ho messo sul suo quadro non me le ricordo ecco quindi gli dice ci ho messo le figure che ci si aspetta di trovare in una cena e allora l'inquisitore gli dice ma in questa cena che avete fatto in San Giovanni Paolo che significa la pittura di colui che gli esce il sangue dal naso eccolo qua lo vedete che ha il fazzoletto insanguinato e Veronese dice l'ho fatto per un servo che per qualche accidente gli possa essere venuto il sangue da naso no? dice è probabile che avvenga anche questo e che significa quelli armati alla todesca vestiti con una lambarda per uno in mano la labarda no? sono dei soldati tedeschi visibilmente dall'abbigliamento si capisce che sono tedeschi e e qui Veronese dice fa bisogno che dica qui 20 parole noi pittori ci pigliamo la licenza che si pigliano i poeti e i matti ecco attenzione perché qui questo è proprio il succo poi della difesa di Paolo cioè noi artisti siamo così fantasiosi bizzarri un po' come i poeti e i matti ecco ho fatto quelli due alla bardieri uno che beve l'altro che magna appresso a una scala morta i quali sono messi là che possono fare qualche ufficio per rendomi conveniente che il parondone della casa che era grande e ricco secondo che mi è stato detto dovesse averte servitori cioè lui cerca in ogni modo di ricondurre tutto a c'è questa scrittura nel Vangelo no? era una casa di uno ricco questo ricco ci avrà avuto un paio di soldati un paio di di guardie di buttafuori ecco che che gli facevano la guardia e loro stanno lì stanno sulla scala e mangiano bevono ovviamente in piedi e la tavola del signor chi vi sono? e gli dodici apostoli che effetto fa San Piero che è il primo? e il guarda l'agnello per darlo dall'altro capo della tola non si passano il cibo ditte l'effetto che fa l'altro che ha presso questo e l'è uno che ha un piron che si cura i denti effettivamente si sta lavando i denti sta pulendo con una forchetta e quel vestito da buffon con il pappagallo in pugno a che effetto l'avete depento in quel telaro? per ornamento come si fa? e quindi ci sono delle figure che non stanno lì semplicemente per ornamento per decorazione anche se la loro presenza non è giustificata dal tema e che credete voi veramente che si trovasse in quella cena? credo che si trovasse Cristo con i suoi apostoli ma se nel quadro io avanza spazio io lo adorno di figure secondo le invenzioni c'è tanto spazio riempiamolo ed alcuna persona vi è stato commesso che voi dipingeste in quel quadro todeschi buffoni e simili cose ti è stato chiesto dal committente perché se ti è stato chiesto dal committente io lo vado a prendere e interrogo anche lui signori no ma la commission fu di ornare il quadro secondo che mi paresse il quale è grande e capace di molte figure siccome a me pareva e quindi ci sta anche il nano con l'uccello e poi appunto come si conclude questo interrogatorio interrogato se gli par conveniente che alla cena ultima del signore si convenga dipingere buffoni imbriachi todeschi nani e simili scurrilità Paolo risponde signori no e qui arriva proprio l'accusa l'accusa forte no non sapete voi che in Alemania e in altri luoghi infetti di eresia sogliono con le pitture diverse piene di scurrilità e simili invenzioni di leggere vituperare e far scherno delle cose di Santissima Chiesa Cattolica per insegnare male dottrina alle genti idioti e ignoranti ecco praticamente dice tu hai fatto quello che fanno in Germania dove praticamente prendono in giro gli insegnamenti della Sacra Romana Chiesa attraverso l'arte lui risponde signori si che l'è male ma perché tornerò ancora a quel che ho detto io ho obbligo di seguire quelli che hanno fatto i miei maggiori ossia i miei maestri quindi adesso si appella si sceglie un'altra strategia difensiva Paolo e sceglie di fare appello ai grandi maestri del Rinascimento allora gli chiedono ma che hanno fatto i vostri maggiori hanno forse fatto cosa simile e lui dice Michelangelo in Roma dentro la cappella Sistina ha dipinto il nostro Signore Gesù Cristo la sua madre San Giovanni San Pietro la corte celeste le quali sono fatte tutte nude dalla Vergine Maria in poi esclusa la Vergine ovviamente con atti diversi con poca riverenzia è lì l'inquisitore che è uno che si ha fatto su uno colto dice non sapete voi che dipingendo il giudizio universale nel quale non si presume vestiti o simil cose non occorre a dipingere vesta in quelle figure non vi è cosa se non di spirito non vi sono buffoni né cani né armi né simili buffonerie e se vi pare per questo o per qualunque altro esempio di aver fatto bene di aver dipinto questo quadro in quel modo che sta e se vuoi difendere quel quadro sta bene e condecentemente scusatemi ma è la lingua dell'epoca e dopo aver detto questo tu hai ancora il coraggio di difendere quello che hai fatto questo è quello che dice l'inquisitore con quest'ultima frase e Paolo risponde signor illustrissimo che no non lo voglio difendere ma io pensavo di far bene e non ho considerato tante cose pensando di di non fare nessun disordine nessun problema tanto più e qui è l'ultima estrema estrema veramente difesa disperata di Paolo che quelle figure di buffoni sono fuori del luogo dove è nostro signore sono al di qua delle serliane il signore sta di là sta in un'altra stanza ecco qui si capisce proprio le problematiche che cominciano ad avere gli artisti in quest'epoca devono cominciare a pensare che c'è l'occhio grande della chiesa dell'inquisizione che li guarda e che chiederà presto di a loro di essere arruolati nel ruolo proprio di difendere le verità di sacro romano e chiesa come vedremo poi soprattutto nell'epoca barocca ecco se la cava bene comunque Paolo non gli succede niente noi un paio di anni fa con la quarta liceo classico abbiamo messo in scena le note del classico questo interrogatorio l'abbiamo proprio recitato facendoci però della scena quindi c'era c'era veronese che arrivava incatenato ascoltato da delle guardie con rumore di catene chiavi stelle che si aprivano proprio come l'avessero tirato fuori dalla cella ecco in verità no non fu così non fu una semplice comparizione al tribunale per l'interrogatorio ecco concludiamo quindi il discorso su veronese e tintoretto mi affido ad Argan che è un grande storico dell'arte uno dei più grandi del novecento che ha scritto queste parole che sono molto belle fa un discorso proprio sulla repubblica di Venezia la repubblica veneta è il solo stato italiano in cui l'ideale religioso si identifica con l'ideale civile ed è vero l'ideale civile della repubblica è palese insomma è una repubblica senza un forte ideale civile senza richiedere l'impegno e l'onestà di ogni singolo cittadino non funziona e questa è una repubblica che è vissuta per mille anni e quindi l'ideale civile è sempre stato fortissimo però attenzione c'è anche l'ideale religioso e sono inseparabili sono inseparabili Venezia è una grande potenza cristiana cattolica è San Marco è un santo che incarna poi anche l'ideale civile della repubblica è più tutta la schiera l'incredibile quantità di chiese di conventi di scuole grandi di varie forme di devozione che appunto sono tipiche appunto della città lagunare e questo ideale si riflette ugualmente benché con accenti diversi nella pittura dei due maestri cioè ognuno dei due è veneziano è un cantore della Venezia del Cinquecento però in maniera diversa nella Venezia del Cinquecento Tintoretto esprime la coscienza del dovere e della responsabilità civile lo spirito profondamente cristiano che la conduce alla guerra contro i Turchi al drammatico trionfo di Lepanto il veronese invece è l'interprete dell'apertura intellettuale e del civile modo di vita che fanno della società veneziana la società più libera e culturalmente avanzata ed effettivamente è vero è quello che si vede nelle cene del veronese il sentimento del dovere e quello della libertà hanno una fonte comune l'ideale umanistico della dignità umana ecco qui dice una cosa in più Argan una sua opinione che io mi sento di confermare che praticamente Venezia è l'ultima a custodire l'ideale umanistico l'ideale umanistico che è andato perdendosi già nella prima metà del Cinquecento nel resto d'Europa nel resto d'Italia scusate a Venezia dura un po' di più dura un po' di più perché c'è la Repubblica perché c'è questo ideale civile ecco e questo si vede vi viene a dire anche in Palladio l'architettura di Palladio è una pittura quasi è un'architettura più classica che non manierista e lui dice appunto che anche i maestri veneti dal Palladio architetto non meno che dai pittori e quindi si spiega come la loro opera custodisca e tramandia il secolo successivo la grande eredità della cultura umanistica ecco ecco mi sembra un ottimo modo per chiudere ecco se avete delle domande delle cose che non avete capito ripeto potete commentare qui sotto nel video oppure potete mandarvi una mail oppure potete non so organizzarvi tra di voi in chat non so di raccogliere le domande gli interrogativi e mandarmi una mail e poi io rispondo faccio un video di risposte non lo so ecco e e niente basta e andate a Venezia ecco se avete voglia di andare da qualche parte andate alle gallerie dell'accademia a vedervi molti dei dipinti che abbiamo visto oggi ecco